ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi con vero piacere sono qui a presentarvi il delica 4 zumi del gruppo facebook spider co italia ragazzi di cui ho disegnato il logo col preziosissimo aiuto di marco rossi logo di questa edizione 2020 ragazzi delica 4 zumi che andiamo a vedere insieme eccolo qui ragazzi delica 4 zumi di spider co ragazzi zumi è la tecnica speciale con cui vengono dipinti a mano i manici di questi delica ragazzi il coltello delica 4 lo conoscete tutti praticamente coltello mast di spider co questa è la versione ragazzi esclusiva numerata eccola lì per il gruppo spider co italia di facebook eccolo qua il loghino disegnato da me col preziosissimo aiuto di marco rossi spider co italia club 2020 ragazzi il gruppo facebook ragazzi due parole sul gruppo se vi piacciono gli spider co dovete entrarci per forza ragazzi perché ci sono tantissimi appassionati che possono consigliarvi in milioni di modi ragazzi c'è un mercatino della nuova e dell'usato potete trovare veramente delle belle occasioni e soprattutto invece di andare in piazzale maciacchini a comprarvi lo spy delco dal cinese ragazzi che poi vi tira dietro i pezzi di lamiera venite nel gruppo e prendete degli acquisti sicuri dei coltelli originali al 100% ragazzi davvero fateci un giro nel gruppo perché ne vale veramente veramente la pena ragazzi davvero andiamo al coltello il coltello misura 18.2 centimetri da questa bellissima lama ragazzi bellissima di 7.4 centimetri in acciaio sammai cos'è questo acciaio sammai praticamente l'acciaio sammai dovete immaginare un sandwich l'interno quando fanno il sandwich prima di forgiare la lama cosa fanno mettono all'interno l'acciaio carbonioso l'acciaio duro che è l'app 40 vedete sopra l'app 40 viene rivestito con il sus 410 eccolo lì quindi fanno questa specie di sandwich mandano tutto in forgiatura praticamente durante la forgiatura come per il damasco si vanno praticamente a saldare questi strati ok e formano una lama unica quando poi si va a bisellare la lama creare la lama nella molla nell'operazione di molatura eccolo lì che esce lo strato di metallo diverso lo vedete questa riga non è altro che la divisione tra i due strati che vengono poi molati ok visto che la lama scende in questo modo ok a v mano a mano che vanno a molarla l'acciaio che è nell'interno del sus 410 compare ed è quello lì per quale motivo fanno questo gioco perché l'app 40 è un ottimo acciaio con un alto tenore di carbonio ragazzi quindi non è un acciaio inox cosa vuol dire che ossida facilmente quindi oltre a scurirsi ossida proprio e soprattutto è molto molto rigido una lama tutta in up 40 sarebbe stata una lama veramente durissima ragazzi poco elastica invece lasciando la lamina in mezzo di up 40 e rivestita con questo sus 410 oltre a dare elasticità alla lama ragazzi da anche protezione per la corrosione quindi la parte sopra del coltello è tutta inox solamente il tagliente ragazzi di questo coltello non è prettamente inox quindi ragazzi se usate questo coltello mi raccomando poi quando lo lavate asciugatelo altrimenti il tagliente diventa scuro ragazzi diventa scuro piccola aggiunta che faccio al video ragazzi perché mi sa che mi sono spiegato come un cane morto e non so se avete capito bene quindi provo a rispiegarvelo questa storia dell'acciaio san mai con anche un disegno che dovrebbe capirsi un pochino meglio ragazzi allora perché questo doppio tagliente vedete perché è diverso adesso lo andiamo a vedere l'acciaio san mai ragazzi come abbiamo detto prima è un sandwich in questo caso nel mezzo ci mettono il carbonioso ok l'acciaio duro che è l'app 40 ragazzi un acciaio non inox che è molto rigido e soprattutto ossida quindi cosa fanno per proteggerlo e per dare più elasticità alla lama ragazzi ai lati proprio come un sandwich gli mettono in questo caso il sus 410 che invece è un acciaio inox quindi va a proteggere la lama e a dare elasticità ragazzi protegge la lama dall'ossidazione ovviamente una volta forgiati questi metalli ok quindi saldati insieme vengono molati attenzione stiamo vedendo questa è la punta della lama la stiamo vedendo in questo modo ok la vediamo in questo modo cosa vuol dire che la lama ovviamente come vedete non scende dritta scende così ok quindi la lama scende in questo modo quindi quando vanno a molare per creare la lama cosa fanno molando fanno questo questo e questo per andare a creare il tagliente e la forma della lama ok cosa vuol dire in questa operazione ragazzi questi pezzi se ne vanno questi pezzi se ne vanno ragazzi e rimane il tagliente come potete vedere in acciaio carbonioso in questo caso up 40 ragazzi eccolo qua e i lati del coltello perfettamente inox con il nostro sus 410 ed è il motivo per cui vedete questa linea ok che va a dividere il tagliente i due diversi tipi di acciaio ragazzi torniamo al video presa per questo delica ottima ragazzi davvero sia avanzata che la presa normale davvero delle prese ottime jimping superiore per il po sulla rampa per il pollice perfetto ragazzi davvero un ergonomia incredibile del delica uno dei coltelli migliori al mondo secondo me ragazzi davvero insieme all'endura tanta roba ragazzi tanta roba il coltello lo conoscete quindi non ci perdo tantissimo tempo è una costruzione su cartelle in acciaio alleggerite che state vedendo la dentro le vedete sì che le vedete eccole lì rivestite con queste guancette in frn allora dove sta la particolarità ragazzi di questo di queste guancette di queste serie queste serie zoom sono praticamente serie esclusive cosa vuol dire che ogni pezzo questo pezzo esiste solo così perché questa colorazione è stata fatta proprio con un processo di pittura a mano ragazzi una tecnica che ricorda molto l'ichizumi praticamente le pennellate quelle dei giapponesi ce le avete presente esattamente quelle praticamente vengono fatti i componenti le guancette per il manico in frn e poi vengono colorate a mano appunto con queste spazzolate con questi colori che poi vanno a permeare l'frn e rendono praticamente ogni disegno unico quindi ogni delicazumi ragazzi è praticamente un pezzo unico è un pezzo unico ragazzi davvero un coltello per gli appassionati da avere ragazzi da avere assolutamente clip ovviamente posizionabile nelle quattro posizioni finalmente una clip color acciaio ragazzi davvero l'apprezzo tantissimo l'apprezzo tantissimo ancora il nostro logino ragazzi ovviamente costruzione seki city japan ovviamente ragazzi un coltello che davvero mi riempia di orgoglio perché comunque sono veramente contento di aver fatto il logo per la spider co italia ragazzi gruppo facebook un coltello che mi piace veramente tanto e soprattutto un coltello numerato una serie esclusiva ragazzi che sono contento di aver fatto di aver contribuito a fare appunto con gli amici del gruppo spider co italia ragazzi ragazzi guardiamocelo ancora un pochino eccolo qua ragazzi un coltello da avere se non l'avete ragazzi vedete di procurarvelo andiamo alle conclusioni finali delica 4 zoom ragazzi un coltello pezzo unico lama san mai e manico dipinto a mano ragazzi fanno di questo coltello veramente un pezzo unico un coltello da avere ragazzi non vi ho detto il peso pesa solamente 64 grammi quindi una piuma ragazzi una piuma davvero ragazzi dal delica 4 zoom di spider co dal parchetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao